Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per provare a prendere Samuel Eto'o ragazzi, è arrivato il nostro Eto'o, ma prima di andare a provare a spacchettare un attimino questo giocatore fotonico, volevo dire alcune cose. Nel video di ieri ho parlato di script ragazzi, ho parlato di script andando a criticare, senza nominare mai ovviamente, il video fatto da un altro youtuber, ma io semplicemente volevo esprimere la mia opinione, non volevo in nessun modo criticare il suo operato a livello di content creator, che tra l'altro mi piace molto e è anche abbastanza bravo anche a farla delle cronaca. Voglio chiudere completamente questa storia dicendo, magari ragazzi mi son fatto prendere un attimino dall'essere sanguigno, ecco io sono sanguigno, lo sapete, e ho visto una persona che comunque non è del mestiere, non fa questo di professione, non è andato nemmeno a cercare le prove di quello che dice giocando con magari campioni del mondo, campioni europei, andando a chiedere agli sviluppatori dei videogiochi, a chi ha un programmatore di videogiochi, come funziona l'argomento, script eccetera eccetera, e quindi magari abbiamo opinioni diverse, ecco mettiamola così, io ho detto che per dire una cosa in pubblico, soprattutto se sei un content creator, su un argomento così delicato come lo script bisognerebbe essere del mestiere, quindi andare a informare, fare i tornei, andare a giocare offline, ho sbagliato a dire questa cosa? Magari sì perché sono stato troppo duro nel dirlo, ma non intendevo assolutamente dire che non si può avere un'opinione sullo script, tutti quanti possono avere un'opinione, diverso è però andare a esternare questa opinione se si è content creator, cercando di farla passare per buona come se fosse verità assoluta, senza nemmeno andare a chiedere a chi davvero lavora e vive tutti i giorni con questo videogame. Però detto questo voglio ancora una volta far capire a tutti che l'abbiamo smette, non risponderò ulteriormente anche se mi ha fatto una live di tre ore dove mi prende per il culo praticamente ieri, io non ho mai preso per il culo nessuno, non ho mai permesso di insultare nessuno nei miei commenti, anche se nella sua live lui purtroppo ha permesso a diverse persone di dire peste e corne su di me senza andare a bannare, senza intervenire, il mio è stato un comportamento diverso, non l'ho nemmeno nominato, lui nella sua live purtroppo alcune volte mi ha nominato e quindi va bene, è andata così, chiedo in ogni caso scusa a tutti se ho disturbato qualcuno, io volevo ripeto soltanto dire la mia opinione, ma credo che adesso sia arrivato il momento di finirla qui. Io stavo preparando un video di risposta in realtà, ma mi hanno fatto ragionare, il social ebbene a cui do un bacio e quindi facciamo la pace, non facciamo la guerra. Spero che voi appreziate questo mio intro. Ragazzi questa parte è fondamentale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel like, almeno 100 mi piace di supporto se apprezzate questo tipo di contenuto e inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione e nel commento fissato in alto. Se volete migliorare seriamente, accrescere le vostre abilità o semplicemente acquisire la mentalità corretta per performare in questo videogioco, contattatemi, vi aspetto. Ragazzi, io, 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 qualche giro lo faccio su questo e tu, perché potrebbe essere l'opportunista più forte del gioco a statistiche fotoniche, solo che più di 20 euro per adesso non li metto. Perché? Perché in questi giorni arrivano le card dal team, per adesso pago io sta 20 euro, quindi non è che mi voglio spendere i soldi, giustamente. Adesso che arrivano le carte dal team, entro qualche giorno al limite continuiamo. Per adesso, ripeto, preferisco aprire non più di 20 euro. Iniziamo perché, ripeto, lui è veramente fotonico, un opportunista che tra l'altro schilla e se gli becchiamo elastico schilla pure di suola. Quindi potrebbe essere molto, molto interessante. Vediamo se lo troviamo con una semplice 20 euro. Proviamo con il primo giro da 10. Oh, attenzione ragazzi, che qua sculiamo! Attenzione che sculiamo, regà! No, vabbè, non ci credo, regà. Non ci credo, se è lui non ci credo. Me ne vado. Ciao ragazzi, giocate voi. Ciao, ciao. Regà, sono tornato solo perché vi voglio bene, ma c'ho troppo culo, non è una cosa normale. C'ho troppo culo, regà. Cioè, perché ho caricato 20 euro? Ridatemila 10 euro indietro, Konami, non la vuoi. Va bene 10 euro, dammila 10 euro. Come si prende il resto da sta cosa, guagno? Come si prende il resto? Io 10 euro ho speso. Perché? Devi darmi 10 euro di resto. Va bene ragazzi. Accettiamo questa cosa molto, molto volentieri. Chiaramente, non mi imitate, regà, perché è difficilissimo che vi esce con 10 euro. Cioè, c'ho avuto un culo quanto una casa, ragazzi. Ma spaziale, veramente. Cioè, io questo mio profilo nello shoppare è qualcosa di assurdo. Li trovo sempre al primo, al secondo giro, al terzo giro. Poche volte mi è capitato di svuotare il pool. Che incredibile, con 10 euro, guagno. E ne ho caricati 20, io potessi avere il resto, lo prenderei. Cioè, assurdo. Va bene, potevo caricarne 10, devo imparare a caricare 10 euro alla volta, non 20. Perché vedi poi? Trovo qua 10 euro, e va bene. Ci conserviamo le monete. Il problema, come già ho detto, è che questi soldi li ho messi io. Perché le card arrivano in questi giorni. Sono sincero. Quindi a noi ci danno le card, il team, no? E mo ancora non sono arrivate. Arrivano in questi giorni. Però lo volevo aprire subito. Va bene, dai. Livelliamolo. Quindi, in consigliati, viene così. Mamma mia, che giocatore spaziale, ragazzi. Con il booster viene... Mamma mia. Fa paura, ragazzi. È pauroso. Mamma mia. Cioè, c'è qualcosa di pauroso in questo. Fa paura. Però dobbiamo ancora dargli il secondo booster. E lo possiamo... Selezionare? Penso di sì. O forse non sono abbastanza. Vediamo. Allora, tiro... Potrebbe essere interessante. Tecnica, anche. Potrebbe essere interessante. Duelli, no? Agilità. No. Fisicità. Fisicità. Ma nemmeno. Istinto da attaccante. Fantasista. Io per mo... Allora, lui che cosa ha? Ah no, lui ha già istinto da attaccante. E quindi, io gli metterei tiro a questo punto. Oppure... Gestione del pallone, anche. Non è male. O tecnica, addirittura. No. Tiro, dai. Mettiamo tiro. Ah, oggetti insufficienti. Vedi? Eh, non ne ho cento. Mortacci su. Va bene. Mettiamo booster casuale. Eh, duelli mi ha dato. Non serve un cacchio. Perché duelli è... Comportamento difensivo contrasto, no. Casuale ancora. Chi ci dà? Gestione del pallone. Dribbling, possesso stretto e velocità. Lista booster. Gestione del pallone. Dribbling, possesso stretto, velocità e controllo. Ma, va bene, dai. Gestione del pallone, va bene. 101 viene, sì. Più il booster dovrebbe venire 105. Mettiamolo in campo. Allora. E tu? Mamma mia, fa paura, ragazzi. C'è da prendersi paura. Mamma mia, uagno. Che giocatore. Grande upgrade con 10 euro. Che culo, raga. Mamma mia, che culo. Mamma mia, che culo. Guarda là. Fa paura. Andiamolo immediatamente a provare. Ok, io sono messo così. 5 vittorie e una sconfitta. 83% di vittorie. Siamo ancora all'inizio. Test e tu. Vamos. Matchmaking completato, ragazzi. Ovviamente mi vado a coprire gli occhi, come sempre, per non farmi condizionare. Allora, ragazzi miei, noi rimaniamo così. Questo è il modo dell'avversario. Chiusissimo, giustamente. Tiene paura dietro. No, era già chiuso a prescindere. Giochiamocela e speriamo che questo e tu sia fotonico. Io mi sono dimenticato di provare a mettergli la skill elastico, dobbiamo trovare. Che se troviamo elastico, skilla di suola. Anche se va bene anche non di suola, che io gli attaccanti, la punta, l'ho sempre avuta che non skilla di suola. Siamo ragazzi, ci siamo. Prima partita del video. Cerchiamo di far subito bene e divertiamoci nel testare questo Samuelino e tu. 105 di euro. Fotonico, come direbbe il socio. Fotonico. Dobbiamo avanzare un pochino il volume. Fuori gioco, fuori gioco. Ci sta. Ne? Grazie. Dai, più calmo Simo. Bello l'anticipo. No, non saltare. Eh, ho fatto troppo forte. Lui comunque ha tantissimi uomini dietro. Un modulo estremamente difensivo, molto chiuso. Con cui non riesce ad attaccare, ma è chiusissimo in difesa. Molto difficile oltrepassare il suo centrocampo. Però ovviamente per adesso risulta sterile in attacco. Va fa di prima. Oh no, è tutto chiuso ragazzi. Dobbiamo cercare di sfintare, dribblare, perché difende bene, sta fermo, non pressa. E si è chiuso completamente. Oh! E fallo. Oh, è il recupero perfetto che ho fatto con MyCon. Allora, con questo non dobbiamo avere troppa fretta di attaccare, secondo me. Molto, molto macchinosi miei, eh, molto. Questo è uno difficile, perché gioca in sto modo molto difensivo. Guarda là! Eh, devo tornare per forza indietro. Non mi dà la possibilità di controllare il pallone. Nooo. Ragazzi, non lo riesco a tenere, non lo so. Faccio per switchare, ma... Switchano veramente male, veramente in ritardo. Veramente in ritardo. Guarda. Devo cambiare modo di giocare, ragazzi. Devo prenderlo. Non male. Tutte parate in manual. Guarda là. Eh, ragazzi. Parate anche queste in manual, ma... Ma chiudo la difesa a 5 anch'io. Non sto riuscendo completamente a switchare in difesa. Niente. Zero. Difesa a 5. Tacche tutte giù. E devo difendermi. Così. E quando la partita è strana, devi fare così. Niente. 1-0. Eh, ma si vedeva, ragazzi. Si vedeva. Dai, dai. La recuperiamo, la recuperiamo. C'è quinsake. Sì. 2-3. 0-2. Sì. Sì. Sono costretto a mettere la difesa a 5 Anche se sto perdendo 2 a 0 Non riesco a difendere 2 a 1 Con la difesa a 5 Sta la difesa squacquerata Dobbiamo difendere a 5 Cercare di recuperarla con molta calma Guarda là No vabbè Ragazzi Con calma con calma La riprendiamo la riprendiamo con molta calma La riprendiamo Awww. Torna sempre a lui, torna sempre a lui. Ritorno al primario. Ritorno al primario. Ritorno al primario. Non sto riuscendo proprio a esprimere il mio gioco comunque. Però gliela pareggio, sono fermamente convinto che gliela pareggio ragazzi. Con calma. Ritorno al primario. Ritorno al primario. Ritorno al primario. Ritorno al primario. Litorno al primario. Sì, sotto le gambe. L'L2 proprio non funziona più, sì. attraversi. ma se ha premuto troppo forte proprio le skill io sono stato senza skill perché non mi funzionano ma do ma no ma no ha vinto eh ragazzi gg complimenti all'avversario è stato più bravo gg complimenti ma non si tratta di script non si tratta io avevo un po' di ritardo nei comandi lui è stato più bravo gg andrebbe così con un'altra partita non lo so non lo so sa di fatto che lui è stato più bravo bisogna fare i complimenti gg purtroppo è andata male ci rifaremo è chiaro che fa molto arrabbiare perché io non ho potuto giocare voi chi mi conosce poi gli hater è un conto eh chi mi porta sul cazzo è un conto ma chi mi conosce sa che io gioco molto meglio di quanto avete visto in questa partita e quindi posso assolutamente vincere contro un avversario del genere però purtroppo la partita è andata male lui in questo singolo match è stato più bravo di me bisogna assolutamente riconoscerlo fare i complimenti e passare avanti senza alcun tipo di tilt gg matchmaking completato ragazzi mi vado a coprire gli occhi anche qui allora ragazzi noi rimaniamo così questo è il modulo dell'avversario in questa partita devo cercare di stare più calmo di stare più concentrato perché ho giocato veramente male è vero che avevo ritardo e non mi riuscivo un cazzo però l'avversario ha giocato bene e io ho giocato male bisogna sempre ammettere queste cose ecco perché ha vinto ovviamente perché è così non è che tutto è script sia chiaro io non voglio far passare quel messaggio e l'ho ripetuto centomila volte certo che in questa partita dobbiamo fare meglio dobbiamo essere concentrati non ci sono scuse e dobbiamo dare il massimo dai andiamo in campo siamo in campo ragazzi siamo in campo ci siamo seconda partita dell'episodio dopo la brutta batossa di prima purtroppo non siamo riusciti a ribaltarla e tu completamente assente cerchiamo di fare meglio in questa partita dai grazie a tutti 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 non sono molto lucido secondo me in forma vedo che sto sbagliando parecchio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non posso parlare tanto rega devo mantenere la concentrazione non sto riuscendo a giocare bene nemmeno in questa partita devo mantenere la concentrazione non ho supporto non ho supporto devo fare così bello tira ce lo inventiamo grazie a tutti dai è fallo è fallo è fallo è fallo su uno sgusciantissimo leao dai dai che riprendiamo il ritmo dai oppla 2 a 0 nei marini però hai tu ancora grande assente sto passo rimettiamo rumenig grazie a tutti Grazie a tutti. E' il primo gol di Samuelino Eto'o. Cominciamo a ragionare. Calma. E' il primo gol. E' il primo gol. E' il primo gol di Samuelino Eto'o. E' il primo gol di Samuelino Eto'o. E' il primo gol di Samuelino Eto'o. E' il primo gol di Samuel Eto'o. E' il primo gol di Samuel Eto'o. E' il primo gol di Samuel Eto'o. Si è svegliato Eto'o. Si è svegliato Eto'o. Eh, volevo farla annullata, ma non me l'ha preso. E' sarebbe stata la scelta giusta. Fallo, fallo. E' il primo gol di Samuel Eto'o. E' il primo gol di Samuel Eto'o. fine, anche in assist. Non contento, non sazio dei gol. Si è svegliato, quindi, come dicevano. Si è svegliato. Buongiorno, Samuelino. L'ho visto Messi, ma non l'ho fatto in tempo. Che non mi ha annullato la crocca. Devo fare la crocca interrotta col passaggio per Messi. No, 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 no. dai dai eh sì devo fare pure dei cambi perché evidentemente sono pure un po' stanchini cominciano a risentire di questa cosa e se l'entini nella ricezione dei commands è fuori gioco, peccato ci sta ok, leao per gruif e tu dai rumenig ah, acquittato va bene, così passiamo alla prossima partita vediamo ovviamente quanti punti ci dà allora, hai vinto aumentate i 25 punti vediamo un pochettino era un ne entrano a bollini va bene beh ragazzi io direi che per questo video può bastare così fatemi sapere ovviamente nei commenti che ne pensate delle partite che avete appena vista e anche della sculata epica per Eto'o io come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto della vostra cima play bella ragazza ciao 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 ciao